Quello che vedete dietro di me non sono le ceneri di un bracere soltanto, sono le ceneri della sanità campana, perché noi siamo davanti all'ospedale Bosco Teccase, il cui pronto soccorso è chiuso ormai da 4 anni, avrebbe dovuto essere riaperto da 2 e invece non è accaduto per inettitudine, per incapacità, per inadeguatezza, per quello che è, ma sta di fatto che è chiuso e soprattutto quello che accade è che si continua a prendere in giro i cittadini di questa regione, anche su un tema drammatico come questo che riguarda 250.000 campani. Io avevo fatto un question time in cui il Presidente della regione Campania veniva interrogato per sapere quando e se si sarebbe riaperto questo pronto soccorso. Mi è stato testualmente detto che il 7 febbraio si sarebbe tenuta su formale richiesta del Presidente della regione una conferenza Stato-Regioni sul tema del reclutamento e del trattamento delle strutture sanitarie, che ovviamente avrebbe dovuto dare, non dico la soluzione ai problemi, ma comunque una svolta decisiva. Noi abbiamo aspettato pazientemente il 7 febbraio per scoprire che non solo è stata spostata di un giorno al 7 e all'8 febbraio, ma che in realtà in quel giorno non era prevista nessuna iniziativa di questo genere, ma semplicemente un seminario a cui il Presidente della regione Campania non ha partecipato per discutere genericamente del tema del personale sanitario. E questo è il report della conferenza Stato-Regioni che attesta che non c'era nulla, non c'era mai stato programmato nulla e che nulla si sta facendo lì in relazione a questo problema che non è stato mai posto dal Presidente della regione Campania nei termini che addirittura aveva dichiarato formalmente in Consiglio regionale rispondendo a question time che avevamo posto, ma che addirittura non è neanche all'ordine del giorno. È una discussione seria. È possibile che la regione Campania venga governata da un bugiardo seriale come questo signore? È possibile che le bugie riguardino fin anche la sanità e la vita delle persone? Di pochi minuti fa è la notizia che un ragazzo di 15 anni è caduto dal primo piano, è una ragazza di 15 anni, è caduta dal balcone della sua casa di Torre Annunziata ed è stata portata, la stanno portando al pronto soccorso del sale Leonardo di Castellammare, con i ritardi che potete immaginare e con i rischi che ci sono anche per la salute. È questa la condizione drammatica nella quale si vive per incapacità di chi ci governa.